Un ettaro di terra a cavallo fra il centro socioculturale Caprilino e via Gagarin diventerà un bosco urbano da un migliaio di alberi nel quartiere pesarese della Tombaccia. Piante che hanno cominciato ad essere messe a dimora in questi giorni in linea ad un progetto promosso dalla campagna mosaico verde di Lega Ambiente Pesaro e a zero CO2 aspettando le aree verde già pensate e programmate come opere compensative di società autostrade. Un progetto presentato oggi al centro Caprilino è finanziato grazie alla realizzazione fattiva di EstraPrometeo. Questa iniziativa ci permette di fare un'azione concreta nella lotta al cambiamento climatico. Consiste nella piantumazione di circa 3.000 alberi all'anno nei territori di riferimento dell'azienda dove operiamo quotidianamente. L'iniziativa ha sicuramente il vantaggio di fornire alle comunità locali un valido progetto di sostenibilità ambientale per l'assorbimento della CO2 immessa in atmosfera e come in questo caso di Pesaro la piantumazione consentirà anche di fruire in maniera migliore delle aree di questo centro sociale sia attraverso zone d'ombra sia attraverso una barriera naturale fonoassorbente contro l'inquinamento acustico del traffico veicolare. A zero CO2 insieme alle Gambiente hanno messo in piedi qualche anno fa una campagna che si chiama Mosaico Verde. La compagna Mosaico Verde di fatto tiene insieme le aziende che vogliono fare progetti di riqualificazione del territorio insieme ai comuni che vogliono riqualificare pezzi del loro territorio quindi a volte c'è la volontà ma si fa fatica a trovare anche le risorse per farlo questo intervento. Più di tre anni di progetti, siamo a oltre 300.000 piante. Questo di Pesaro è un bellissimo progetto, è importante, è un ettaro, ospita 100 piante, anche arbusti perché l'obiettivo è quello di farlo diventare un bosco, cioè non è quegli interventi produttivi con le piante allineate a coperte ma è qualcosa di più strutturato, molto molto bello e utile per questo territorio. Nel comune di Pesaro il progetto fu accolto tre anni orsono e avviato dall'assessorato di Aidi Morotti. Ci piaceva molto pensare di riuscire a mettere mille alberi nella zona di Caprelino appunto perché c'è un centro sociale molto attivo, molto vivo che raccoglie dai bambini agli anziani è un'area di grande traffico, quindi c'è lo smog, avere gli alberi c'è bisogno c'è un campo di calcio, c'è un'area per l'agility dog, quindi un bel bosco a due chilometri in linea d'area da Piazza del Popolo quindi un bel segnale che la città vuole dare rispetto al verde urbano è uno dei tanti progetti che si fanno rispetto alle piantumazioni all'alberatura è stato fatto uno molto importante anche alla Celletta e si sta portando avanti ormai da diversi mesi partiranno a breve anche i boschi urbani di società autostrade che sono lavori complementari rispetto all'intervento della terza corsia quindi una città che si vuole caratterizzare sempre di più per l'ambiente. Questo intervento è importante e auspichiamo che ce ne siano altri sappiamo che ci pianteremo altri 400 alberi a Villa San Martino anche questo è molto importante e poi continuiamo con il Comune di Pesaro ad insistere perché la società autostrade ci faccia piantumare gli 8 ettari di terra che sono fra gli accordi stipulati appunto per i lavori fatti nell'autostrada e così completiamo veramente un bel progetto che coinvolge tutta la città.